Il pessolino birichino C'era una volta un pessolino che era molto birichino. Aveva tanti amici e ogni giorno andava da ognuno di loro. Un giorno però litigò con tutti i suoi amici perché aveva sempre la tessa al gioco, quindi non si parlarono più. Il pessolino rimase solo, stavo nutando e all'improvviso vede uno squalo. Lo squalo lo inseguì, lo prese e lo portò dal suo capo. Lo squalo capo gli chiese da dove veniva, ma il pesce non rispose. Lo squalo capo fece avvicinare l'altro squalo e gli disse di ucciderlo. Lo squalo stava eseguendo l'ordine, quando, ad un certo punto, gli amici del pesce che stavano passando da quelle parti sentirono delle grida. Andarono a vedere cosa stava succedendo e si accorsero che il loro amico aveva bisogno di aiuto. I pesci fecero scappare due squali e diventarono di nuovo amici. I pesci fecero scappare due squalo.